buonasera a tutti cari amici eccoci di nuovo sugli schermi di cucici magazine oggi siamo che a fare una chiacchierata di una chiacchierata di pari opportunità chiamiamola così poi dopo parleremo di diversi argomenti con la psicologa marzia brandi buongiorno marzia buongiorno buon pomeriggio michele buon pomeriggio a tutti grazie dell'invito è sempre un piacere e una grande gioia condividere questo spazio insieme a te e ritagliarci un momento per parlare di cose che ci appartengono e ci descrivono e e ci raccontano in maniera precisa e puntuale assolutamente magari possiamo già preannunciare ai nostri spettatori che eh questa è un primo è una prima chiacchierata che poi ne eseguiranno altri su cui faremo dei nostri ragionamenti un po' a trecentosessanta reali esatto assolutamente ci abbiamo un po' preso gusto a questo momento di incontro perché eh sostanzialmente riusciamo in maniera leggera a parlare di cose serie che ci stanno a cuore questa cosa fondamentalmente oltre ad essere un momento di confronto e di crescita per me e per te è una cosa che non lo diciamo forte ci diverte tantissimo assolutamente sì assolutamente sì esatto oggi dai ti lancio la palla oggi di cosa vuoi parlare ma Michele hashtag buon pomeriggio oggi vorrei parlare hashtag dell'utilizzo di questo nuovo eh strumentino eh simbolo veicolo comunicativo a livello social l'hashtag ragionavo sul fatto proprio che se non hai un hashtag all'interno di un social non sei nessuno a livello assolutamente c'era un vecchio comico di qualche decina anni fa che diceva ce l'ho qui la brioche noi oggi potremmo dire ce l'ho qui l'hashtag esatto esatto giusto per fare una battuta ma mh sì l'hashtag oggi come oggi è diventato un po' il veicolo principale perché caratterizzare una comunicazione è per dare forse sbaglia secondo me sbagliando un'autorevolezza a un concetto che si vuole passare perché come si diceva oggi se non c'è un hashtag uno più hashtag sotto un post non sei non sei nessuno perché non ti puoi diciamo classificare in una in una categoria di informazione perché il problema il problema oggi come oggi è sempre quello della classificazione purtroppo cioè parliamo tanto di libertà parliamo tanto di pari opportunità parliamo tanto di libertà di comunicazione di verità di pensiero quando in realtà se noi non ci omologhiamo a qualcosa non ci sentiamo liberi questa è un po' una un'assurdità secondo me della comunicazione della vita moderna non so se ho preso in pieno il concetto che volevi esprimere ma dimmi tu assolutamente sì michele assolutamente sì hai centrato in pieno diciamo il cuore del del pensiero che volevo condividere insieme a te ovvero sia la categorizzazione di un semplice post come può essere sul mondo dei social se non è veicolata attraverso il caro amico hashtag si perde nella notte dei tempi questo perché come sottolineavi tu giustamente la libertà di pensiero e quindi la condivisione di una comunicazione vera autentica oppure semplicemente scherzosa eh se non è eh incasellata attraverso l'hashtag all'interno di macro categorie il sistema social di comunicazione eh a tutti gli altri utenti eh fa sì che quello che tu scrivi abbia vita breve e non venga eh visualizzato dal ben che minimo utente o o eh da pochissime persone eh e questo è talmente tanto vero e è talmente tanto eh diciamo purtroppo determinante che se vuoi utilizzare una comunicazione efficace e far arrivare un messaggio di particolare importanza devi partorire un hashtag tu in questo sei stato come sempre geniale partorire un hashtag che significa utilizzare lo strumento per far arrivare un messaggio importante perché l'hashtag non fa altro che incasellare ma nella casella noi dobbiamo sintetizzare quello che noi vogliamo porre all'attenzione della comunicazione social che è il nostro pensiero in questo tu hai fatto un parto spettacolare lanciando l'hashtag il disabile sbagliato che esprimi eh dietro quell'hashtag c'è una storia ma un giorno un mondo che poi un giorno ne parleremo perché è interessante eh assolutamente sì e quindi eh in questo sta l'importanza paradossale nel non averla ma utilizzata nella modalità corretta di una comunicazione efficace attraverso il mondo social utilizzare l'hashtag in questo modo ci permette come hai fatto tu nel lanciare questo messaggio nell'etere che è diventato uno slogan ma gli slogan sintetizzano quello che è un pezzetto di vita di mondo un percorso bello brutto che siano senza entrare in questa occasione specifica nel merito eh però permettono questo eh e chi non ha consapevolezza di questa cosa a volte rimane inesorabilmente purtroppo al di fuori perché abbiamo iniziato questa chiacchierata con l'hashtag perché l'hashtag esprime un pezzettino di un qualcosa che ci sta molto a cuore che è l'inclusione e la possibilità di esprimere il pensiero e quindi l'unicità della persona a tutto tondo ma infatti il mio ragionamento su cui volevo in tuo confronto proprio questo ossia noi lottiamo a livello culturale a livello sociale a livello anche sessuale come si parla tanto di oggi di libertà di di avere la possibilità ognuno di noi di esprimere ciò che siamo senza avere vincoli senza avere degli schemi che ci inquadrino ossia senza essere omologati come dicevo prima poi entriamo sui social e tac mettiamo l'hashtag ma che cosa è questo come dicevo prima è un modo di di omologarsi di omologarsi a un qualcosa di più grande se io faccio non solo astag la vita è bella io mi includo in tutti quelli che parlano in quella ma in quel modo ma questa è realmente inclusione o diciamo questi social ci stanno portando ti faccio un esempio che facevo un po di tempo fa è sul trasporto un attimo discorso a livello politico ma non per parlare di politica ma per esprimere un concetto cioè sembra quasi che uno vada talmente a destra o talmente a sinistra nell'arco costituzionale che passa dall'altra parte ossia siamo vogliamo talmente tanto l'inclusione che andiamo a negare l'inclusione stessa non so se se è chiaro il concetto di quello che volevo il mio ragionamento qual è cioè ossia noi vogliamo tanto essere liberi che per essere liberi ci andiamo ad incassettare in scombattimenti spagni stagni no spagni questo è un po il paradosso della nostra società del nostro modo di pensare di oggi non so se non so se può essere condivisibile o meno questa questa idea però sicuramente è così ossia anche per esempio cioè noi vogliamo talmente tanto le pari opportunità che ci troviamo ad avere una e qui qualcuno migliorerà a morte una discriminazione dell'uomo a favore della donna questo è un concetto forte è un concetto molto forte questo però i concetti forti mi caratterizzano quindi ti chiederei a questo punto lanciandoti un po in quanto di sfida di esprimere sviluppandolo in maniera flash questo concetto che a me interessa particolarmente tu dicevi le pari opportunità sì l'emancipazione e quindi della donna che avviene a discapito dell'uomo giusto io più che emancipazione vorrei chiamarle più l'autonomia e l'indipendenza della donna perché la parola emancipazione è stata talmente tanto strumentalizzata oggi come oggi che che sembra quasi quasi un'asta che emancipazione per tornare al tema principale cioè la libertà della donna di esprimersi pienamente senza critica e senza giudizi ok secondo te questo avviene a discapito dell'uomo allora no capiamoci bene perché non voglio essere fra inteso assolutamente esistono diverse situazioni diverse situazioni in cui noi abbiamo dove la donna viene realmente discriminata viene realmente messa in secondo piano cosa che è assolutamente assolutamente sbagliata però allo stesso tempo siccome noi sappiamo che non c'è non è tutto giusto tutto sbagliato ma c'è sempre una via di mezzo ci sono determinate situazioni in cui abbiamo la donna predominante cosa che per me cosa che per me va benissimo non è un problema cioè io io non secondo me uomo e donna hanno caratteristiche totalmente diverse e abbiamo settori in cui la donna è predominante settori in cui l'uomo è predominante ad esempio nell'ambito dell'organizzazione no la donna è assolutamente superiore all'uomo organizzazione della casa della famiglia organizzazione del lavoro perché hanno uno schema mentale molto più eh volto all'ordine parliamo sempre della maggior parte eh perché poi ho delle amiche che l'ordine non sanno proprio dove sta di casa però vabbè questo è un altro quelle sono caratteristiche personali sì infatti indipendenti da dal genere ovvio ovvio come per esempio in altri lavori puramente fisici è inutile porre l'uomo a livello della donna proprio per la struttura fisica della persona e per questo che io dico che spesso e volentieri magari tante volte si dice ah perché adesso farò una battuta anche banale ma per quale motivo la donna non può fare lo scaricatore di porto per esprimere un lavoro fisico per eccellenza no perché ovviamente le caratteristiche morfologiche biologiche della donna non sono portate a fare quel tipo di lavoro non perché è discriminante non farglielo fare e questo è un esempio quindi in realtà io vedo l'inclusione tra uomo e donna semplicemente come una divisione diciamo equa e intelligente delle varie della vita sociale in base alle caratteristiche di ognuna non può esistere una una un'inclusione al 50 per cento su tutti i campi non so se è chiaro perché si tratterebbe di omologazione quello che stavamo dicendo prima assolutamente si tratterebbe di omologazione e quindi la diversità di genere rientra nell'unicità della persona e la identifica come caratteristica della persona certo assolutamente assolutamente il discorso di parità di genere tra uomo e donna è più un discorso di tipo contestualizzabile a livello culturale assolutamente infatti infatti mi ti rubo la palla per dire proprio questo la parità deve essere a livello culturale a livello di rispetto dei ruoli a livello di rispetto dei generi quindi più una questione mi ripeto culturali che puramente fisica questo è un concetto molto più importante secondo me assolutamente qui però questo oggi come oggi è di una difficoltà o se le dire no assurda brutto dire è di una difficoltà enorme perché è molto più facile far passare il concetto di inclusione dal punto di vista fisico piuttosto che culturale ma perché il processo culturale segue un tempo e un decorso che è suo proprio a livello di evoluzione in maniera diciamo a volte inversamente proporzionale da quelle che sono le caratteristiche proprio spazio tempo ad oggi nel 2024 spesso e volentieri assistiamo ad un retaggio culturale proprio di posizionamento sociale di una donna che passa da uno status di figlia di a quello di moglie di che è una delle cose contro le quali purtroppo dobbiamo fare i conti volente o nolente quindi la donna socialmente ad oggi da un punto di vista sociale e il sociale rappresenta l'esteriorità la manifestazione di quello che è la cultura no? sì del momento che uno vive per essere un individuo a sé stante e un individuo autonomo fine a sé stesso quindi non legato ad altre figure di riferimento deve fare un lavoro ad oggi ancora molto forte molto profondo di posizionamento sociale perché? perché ancora c'è lo stigma del dello status di essere come dicevo prima figlia di qualcuno figlia dell'avvocato del professore del medico del sindaco del dentista mi verrebbe anche del prete però apre chiudo apre chiudo parentesi diciamo l'evoluzione dello status di figlia poi arriva a quello di moglie se una donna vuole esprimere la propria identità posizionarsi da un punto di vista sociale che non corrisponde necessariamente a una gestione di potere da un punto di vista politico da un punto di vista economico ma semplicemente posizionarsi come donna che esprime il proprio pensiero in maniera autonoma svincolata da un'identità maschile di riferimento ad oggi deve compiere un lavoro bello corposo assolutamente di posizionamento di identità come persona e io dico questo principio è talmente tanto ancora cronicizzato nei nostri diciamo tessuti sociali contingenti e si amplifica in maniera esponenziale con una potenza elevata alla nona se la donna di riferimento ha una disabilità quindi tutto quello che noi condividiamo e adesso con questa riacchierata veloce ci confrontiamo sul discorso di parità di genere di inclusione e quindi di realizzazione all'interno di quella che è la propria identità il proprio posto nel mondo se è di genere femminile quindi donna con disabilità il percorso è un percorso ad ostacoli e in salita quello sicuramente sì poi tu hai lanciato con questa tua diciamo espressione finale con questo tuo concetto finale un altro tipo di inclusione un altro tipo di parità il disabile il disabile che faremo una puntata ad hoc proprio su questo perché è caso di approfondire che viene visto per la sua disabilità e non per la persona che è assolutamente e questo ne parleremo perché abbiamo argomentazioni più che più che ampie più che interessanti da poi magari magari già nella prossima puntata potremmo anche parlarne la prossima chiacchierata però tornando al discorso originario sì l'astac oggi come oggi è l'antitesi della parità concordo assolutamente perché tu se non hai un astac tu non sei nessuno come se tu non fai un post dove taghi almeno 10 15 20 30 40 persone sembra che quel post non abbia credibilità non abbia peso quindi paradossalmente i nostri cari amati social io non voglio qui fare una battaglia contro i social mancherebbe altro però i nostri cari social ci portano in un certo senso negare tante battaglie fatte per l'inclusione e per la parità che non è per forza parità di genere ma è parità tra le persone esatto diciamo che oggi abbiamo espresso qualche concettino un po' un po' forte ma ritengo che siamo riusciti a dare degli spunti di ragionamento ai nostri spettatori agli amici che ci seguono e continueremo a dare perché queste nostre chiacchierate saranno proprio impostate sulla provocazione di ragionare perché la gente deve diciamo diventare autonoma nei ragionamenti e deve essere soprattutto autocritica che è la cosa più difficile da essere oggi come oggi cara Marzia abbiamo concluso abbiamo concluso per oggi il nostro tempo bene vola 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 il tempo vola giusto il tempo vola giustissimo io ti do appuntamento alla prossima chiacchierata va bene con molto piacere ti ringrazio di questo spazio che hai voluto aprire insieme a me questo momento nostro momento di riflessione che ritengo potrà essere molto divertente grazie a te buonasera e un saluto e alla prossima volta io saluto tutti i nostri spettatori e come sempre continuate a seguirci grazie a tutti